Sì, è giù in fondo alla Liguria. Santo! Bellissimo! Il procinto. Arrampicando? Sì, arrampicando. Ci vuole predisposizione. Tutte le cose. E' spettacolo. Si vede anche la pancia. Fanno i piedi. L'uomo morto. Il naso all'insù. Le labbra. L'uomo morto. L'uomo morto. L'uomo morto. L'uomo morto. L'uomo morto. L'uomo morto. Sì, sì, sì E' male che ci siamo allontanati. Che belli eh! Ciao! Dove sta fregando? Il puledrino! Facciamo sciocchezze, non facciamo sciocchezze. Allora domani mattina invece ragazzi dove andiamo? Lì! Scopelle Scopelle Grazie a tutti.